Che partita, che partita abbiamo appena visto dal punto di vista, lasciamo stare tipo per la Juve, tipo per l'Inter, il Milan, il Napoli, quello che volete, farete quello che volete, ma dal punto di vista di quello che abbiamo vissuto è stata una partita folle e questo tipo di partite qua io faccio fatica a valutarle, non credo di essere abbastanza bravo per descrivere una partita del genere. È difficile, è un livello di difficoltà estremo. Intanto parto dal risultato finale, un pareggio. Io immaginavo potesse essere un pareggio, ve lo dicevo ieri, all'interno del video della conferenza stampa, mai avrei pensato di vedere un 4-4. Non sarei mai riuscito a prosticare un 4-4 alla vigilia. Se qualcuno poteva essere invece portato a questo tipo di risultato, beh, me lo faccia sapere perché nel caso gli chiedo anche 6 numeri e vado a giocarmeli all'otto. È stata, io credo, una partita che va vivisezionata perché non puoi con una frase descrivere questa gara. Vi faccio un esempio. Primo tempo. Per il primo tempo, vi dico la verità, non mi è dispiaciuta la Juve. È stata una Juve che ha fatto un tipo di partita che mi è piaciuto perché non mi aspettavo di vedere una Juve in partita, dove ha fatto e ha disfatto la Juventus perché la Juve regala due rigori clamorosi, perché sono due regali di Natale che invece facciamo ad Halloween, sotto Halloween. È stato un regalo clamoroso. Per il resto è stata una partita che non mi era dispiaciuta, dove la Juventus aveva fatto siccome di più di quanto ci si potesse attendere dalla Juventus stessa. E l'Inter invece aveva fatto la sua partita, anche lei condita da un po' di errori. Sì, certo, va bene. Secondo tempo, i primi 20-25 minuti di secondo tempo, credo che sia stato un disastro. Ma veramente, era implosa completamente la squadra. La Juve era in completa balia dell'Inter, non ci capiva più niente. Io non ho idea di quante volte l'Inter si è arrivata alla conclusione. Sono curioso di andare a vedere soltanto il numerino delle occasioni. Vediamo 18 volte al tiro, di cui 9 erano specchio della porta contro i 10 della Juve totali, contro i 5 erano specchio della porta. Insomma, c'è stato quei 15-20 minuti di Inter arrembante, dove la Juve mi era sembrata completamente scoppiata. La Juventus mi era sembrata veramente una squadra implosa. Dove c'era un mismatch, adesso apro una piccola parentesi su Danilo, un mismatch importantissimo con Turam. Ma poi ne parliamo nel finale, in realtà, di questa cosa qua, perché voglio fare un ragionamento un pochettino più articolato. Lì la Juve ha rischiato tantissimo. Lì si è esaltato Michele Di Gregorio, con delle parate incredibili, dopo che non era riuscito a neutralizzare il doppio rigore di Zielischi dal dischetto. Il secondo l'aveva pure intuito, toccato, non è stato sufficiente. Poi sul secondo mi avete detto che potrebbe essere un retropassaggio involontario di Weah. Io non ho visto il replay, ho visto soltanto la giocata in tempo reale. Quindi di questo magari parleremo in seconda battuta. Mi concentro soltanto sull'analisi pura della partita, perché ci sono veramente troppe cose. troppe cose da descrivere. E lì la Juve mi era sembrata morta, clinicamente morta. Mi era sembrata una squadra che in quel momento doveva preoccuparsi di prendere il meno gol possibile. Non mi sembrava una squadra in grado di recuperare uno svantaggio di questo tipo. Non so se voi avete avuto un'impressione differente. Magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma io ero davvero convinto di questo. E invece no. Perché poi è venuto fuori un giocatore che non è partito titolare questa sera, che è stato un po' il grande escluso. Vi chiedo scusa ma al secondo gol di Ildis ho perso forse un po' la voce e parlo in maniera rauca. Giunti a questo punto. Ma Ildis con un doppio mancino decide di regalarci una delle doppiette più goduriose di cui io abbia ricordo. Veramente questa doppietta di Ildis è stata veramente qualcosa di indescrivibile. e poi due bei gol da parte di Ildis. Perché non ha mai calciato col suo piede forte in quell'intermezzo di posizione tra il trequartista e l'ala sinistra dove lui si trova assolutamente più a suo agio. La Juve poi nel finale su 4-4 un risultato veramente impronosticabile non è che si è tirata indietro non è che ha detto vabbè adesso l'abbiamo pareggiata e quindi va bene così ci difendiamo. La Juventus lo vuole vincere. Cioè gli ultimi minuti di gara dove secondo me tre minuti di recupero sono anche troppo pochi per quello che si è visto all'interno di una partita come Inter-Juventus 4-4 sono veramente quanto più di bello possibile tu possa cercare e trovare nello sport. Due squadre che si affrontano a viso aperto in quella che è una grande classica del calcio italiano e che non vogliono accontentarsi di un punto a testa ma provano a vincerla anche a costo di rischiare qualcosa sulla ripartenza. Quindi ringrazio veramente la Juve di Tiago Motta per avermi regalato questa sensazione che è una sensazione che mi fa sentire vivo perché questa squadra è stata in fin di vita. Questa squadra qui è come quando il dottore ti dice è clinicamente morta ma tu non vuoi mollare allora sfreia ancora le piastre e vai libera, libera, libera e la Juve ria aperto gli occhi. La Juventus era clinicamente morta ma non si è arresa e questa è una vittoria incredibile. La Juventus fa un punto stasera a San Siro ma ci regala qualcosa in più. Ce la regala. Ci regala della consapevolezza di poter andare in trasferta contro squadre così forti come l'Inter a fare cose di questo tipo. Questo è DNA Juventino. Questo è spirito battagliero. Questo è il vero concetto di fino alla fine. Questa è stata una gran partita dal punto di vista dell'atteggiamento per la Juve perché la Juve in questa gara è stata l'anti-Juve di Tiago Motta. Tutto quello che noi abbiamo sempre visto in stagione la Juve di Tiago Motta questa sera non l'abbiamo visto perché è stata una partita dove la Juventus ha subito 4 gol fino a questo punto ne aveva subito uno soltanto e su rigore ne subisce 4 stasera altri 2 su rigore dei 5 gol subiti 3 sono rigori regalati tutti e 3 da parte nostra e qui dobbiamo migliorare certo ma dal punto di vista difensivo e offensivo la Juventus si è ribaltata completamente ha preso il mondo e l'ha girato. Questo è esattamente quello che dice sempre Tiago Motta ogni partita ha una storia a sé e qui entriamo invece nel discorso vero e proprio della partita perché i cambi di Tiago Motta sinceramente non mi avevano convinto e invece sono stati cambi importanti, impattanti, coraggiosi che ha caricato togliere Vlaovic per mettere Bangula falso 9 è veramente una lettura che mai avrei fatto ed era qualcosa che non potevo condividere invece è stata efficace perché Bangula è andato a sbattersi in pressing sul primo portatore della palla dell'Inter in maniera quasi commovente, romantica credo che abbia toccato zero palloni Bangula ma quanto ha dato in fase di non possesso è stato letteralmente il primo difensore della Juve che ha permesso di recuperare dei palloni perché magari l'Inter non riusciva più a partire dietro doveva lanciare su cosa che non è abituata a fare la partita di Cabal è commovente per quanto ci crede per quella palla che dà McKennie un altro che ha giocato una partita clamorosa dove tocca Vlaovic e arriva l'uno a uno la partita di Consei Sao che cos'è, come la descrivi ma che giocatore è Consei Sao meraviglioso Locatelli che dà quel passaggio in occasione del gol del 4-4 che è assurdo ha fatto partitone anche Locatelli cioè ci sono dei giocatori stasera che veramente mi hanno dimostrato di avere due cazzo di coglioni così è un allenatore che non mi aveva convinto nelle scelte dei cambi e neanche nelle scelte iniziali ma che poi già nel pre-partita vi dicevo ripensandoci sopra rispetto a ieri notte mi sembra una formazione giusta con Cabal al posto di Savona l'unico, l'unico dubbio che ancora mi porto dietro questo dicevo nel pre-partita è quello inerente a Danilo e qui apriamo una grande parentesi perché purtroppo Danilo credo che anche stasera sia stato se non il peggiore in campo ci andiamo abbastanza vicino e vedendo il Gatti che è entrato con quella cattiveria e con quella grinta mi domando ma allora è stata una scelta fisica perché Gatti non ce la poteva fare come si è letto dal punto di vista muscolare o una scelta tecnica questo sposta tanto perché ora non so se è impossibile da dire cioè stiamo entrando all'interno di una discussione folle che non puoi non puoi assolutamente avere e cioè se non avessi giocato Danilo ma avessi giocato Gatti dall'inizio non lo possiamo sapere però possiamo giocare non credo che la Juve avrebbe regalato così tanto in fase difensiva da da quando si è rotto Bremer secondo me non abbiamo la possibilità di di stare a giocare cioè se i giocatori stanno bene riescono ad andare in campo e sono importanti come Gatti e Calu ci vanno questa è un po' la mia lettura però credo che questo sia stato l'unico vero errore di Tiago Motta perché tutti gli altri credo che siano stati siano state scelte coraggiose ma che hanno pagato cioè tenere Ildis come cambio che entra ti fa doppietta mettere con Seisau e UEA che è andato molta ampiezza e sono andati ad aprire le maglie dell'Inter sono state tutte scelte giuste Cabal McKennie sono state scelte giuste sono state scelte che hanno pagato l'unica scelta che ha pagato poco è stata Danilo però ripeto vedremo magari può essere davvero un discorso relativo alla condizione fisica cosa che insomma in questo momento non corrisponde alla realtà io nella vigilia cioè nella vigilia nelle ore immediate poco prima dell'inizio di questa partita mi sono preso anche un po' di nomi sui social dicendo che ero abbastanza positivo rispetto alla partita che poteva fare la Juventus alla prestazione che poteva fornire la Juve e io credo che tutto sommato sia stata una buona gara per la Juve dove deve per forza di cose mettere in primo piano gli errori difensivi perché gli errori difensivi sono la parte ovviamente non devo stare qui a raccontarvelo che non mi è piaciuta di questa gara ma riuscire a rimontare due volte l'Inter che subito vai sotto e poi la Parigi immediatamente vai addirittura in vantaggio torni sotto bombardato dall'Inter potevi morire sul 4-2 poteva essere 6-2 senza problemi e poi la ribalti nuovamente in trasferta a San Siro con questi limiti dal punto di vista dei cambi a disposizione degli uomini a disposizione beh ragazzi per me perdonatemi ma ve lo torno a dire questa è una grande vittoria della Juve dal punto di vista di quello che si porta a casa che non può essere quantificato in punti perché questa Juventus ha sbagliato troppo dal punto di vista difensivo e siamo d'accordo tutti ma io credo che si vada a letto stasera con una consapevolezza maggiore di quelli che sono i coglioni che può tirare fuori questa squadra perché stasera veramente abbiamo visto una squadra che i coglioni li ha tirati fuori degli uomini dei giocatori che i coglioni li hanno tirati fuori è stata veramente una partita che sono riusciti a tenere viva soltanto col cuore soltanto credendoci e mi sembra che questo Tiago Motta l'abbia passato tantissimo dalla panchina perché tutte le volte che lo inquadravano quando buttava dentro un giocatore quando ha messo dentro Gatti quando ha messo dentro Turam si vedeva veramente che ha provato a caricarli in maniera eccellente io stasera ho visto una Juve che andava molto bene sulle ripartenze cosa che invece sfruttiamo troppo poco troppo poco ma nel secondo tempo le ripartenze sono quello che ci hanno permesso di tornare a essere pericolosi perché l'Inter stava facendo un pochettino un pochettino l'Inter stava facendo la partita in quel frangente stava dominando ma lasciava delle condizioni scoperte che noi siamo stati bravi ad andarci a prendere quindi la Juve alla fine chiude anche con il maggior numero di possesso palla a San Siro contro l'Inter e mai avrei immaginato una roba di questo tipo pensavo che la Juventus potesse essere la squadra con meno possesso palla nonostante la filosofia chiara netta e definita e delineata di Tiago Motta però credo che stasera si sia fatto un passo avanti dal punto di vista offensivo chiaro che questa cosa ci ha un po' scoperto dal punto di vista difensivo un po' troppo perché la Juve che prende 4 gol non può essere ovviamente una buona notizia ma per come si era messa la partita la gara per quello che ormai era anche un po' il clima relativo all'essenza la Juve stessa io credo che stasera sia una serata super positiva per la Juve quindi sono molto contento di come è andata la partita e poi ve lo torno a dire una Juve che doppio rimonta l'Inter in queste condizioni e che alla fine mi dice anche senti io ci credo provo a andarmela a vincere è qualcosa di di meraviglioso che non posso spiegarvi o descrivervi a parole perché è qualcosa di troppo bello da questa partita secondo me c'ha solo da da prendere cose positive e insegnamenti perché non puoi non prendere insegnamenti te li devi prendere portare a casa e capire che deve essere un bel compromesso tra quello che abbiamo visto fino adesso difesa ermetica ma stare lì davanti e quello che abbiamo visto stasera difesa ballerina davanti invece abbiamo avuto le nostre occasioni ce le siamo andati a giocare fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti saranno tanti commenti immagino perché è difficile analizzare una partita di questo tipo ci sono stati veramente dei tiri a molla delle montagne russe delle fiammate interne a quella che è stata una partita piena di ribaltamenti di fronte permettetemi sul finale una piccola chiusura noi dobbiamo davvero cercare di limitare gli errori grossi e grossolani che facciamo in area di rigore perché stiamo davvero subendo troppi gol su calcio di rigore per degli errori nostri e poi purtroppo partite del genere risultati del genere che possono essere addirittura dei bei risultati rotondi punteggi pieni in trasferta contro la squadra campione d'Italia diventano invece soltanto un punto perché dietro siamo un po' troppo ballerini però questa è la mia lettura io credo che sia stata una serata positiva per la Juve dove siamo un po' rinati dalla cenere come l'araba fenice ma sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti ciao a tutti e forza Juve fino alla fine